la presentazione. Vi ricordo che registrazione e slide saranno disponibili poi su territori in rete. Apriamo ufficialmente il webinar, allora benvenuti, benvenuti alla giornata di oggi. Il webinar di oggi sarà condotto dal dottor Leonardo Bertini al quale chiedo di condividere le slide e vi invito a scrivere in chat domande e osservazioni e vi auguro buon lavoro. Buongiorno a tutti, spero l'audio funzioni e volevo ringraziare per questo invito a tenere questa condivisione con voi di questi temi che oggi tratteremo, in particolare government process re-engineering, cioè la re-ingegnerizzazione dei processi in ambito della pubblica amministrazione e service design, cioè quindi come disegnare servizi eh per eh diciamo servizi innovativi, digitali e eh facilmente eh fruibili per i cittadini. eh volevo ringraziare quindi per avermi invitato eh il Formez, quindi la dottoressa eh Budelli, Aiello e la dottoressa Claudia Ilardi e il eh dipartimento per la funzione della funzione pubblica che tiene diciamo quest'azione per eh in favore dei dei piccoli comuni. Grazie. eh intanto due parole su di me. Io spero che nel frattempo si sia attivato il eh la condivisione dello schermo. Spero che la vediate. Tutto bene, tutto bene. Si vede tutto perfettamente. Grazie. Grazie. Abbiamo fatto anche il check audio e video come 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 le migliori trasmissioni eh web streaming. Eh quindi ehm mi mi presento eh come si sente dalla scia aspirata? Sono fiorentino, mi sono laureato in scienze economiche all'università di Firenze e dopo ho conseguito un master in business administration in un'università eh anglosassone e e la mia prima esperienza è stata da ricercatore alla commissione tecnica per la spesa pubblica, l'antesegnana della spending review al al ministero dell'economia e finanze. Dopodiché ho avuto la fortuna di entrare in Consip dove ho avuto una grande esperienza in sul tema di appalti pubblici ma lì è cominciata la mia deriva informatica perché eh sono stato immediatamente allocato eh a occuparmi di progetti di innovazione digitale e da allora non l'ho più smesso perché ho fatto diciamo tra virgolette la startup e l'ingegnerizzazione del MEPA, il mercato elettronico della PIA e spero e penso che insomma tutti conosciate questo strumento di appalti telematici e questo diciamo un po' è stata la prima forse mia esperienza e anche esperienza probabilmente in Italia di ingegnerizzazione di un processo in particolare il processo di appalto di beni e servizi sotto soglia di rilievo comunitario e digitalizzazione di questo processo quindi su una piattaforma online appunto quella di Consip si è eh costruito eh il mercato elettronico della PIA insomma no? Quindi eh conoscete bene il tema. Eh la l'esperienza successiva è stata eh di coordinamento di un progetto di interoperabilità e standard per far dialogare chi compra lato pubblica amministrazione con chi vende lato e-commerce a livello comunitario il progetto si chiamava e si chiama PEPPOL che sta per PAN European Public Procurement Online quindi ho avuto questa esperienza diciamo per capirci con le Consip di di dodici paesi europei ehm e poi sono rientrato in Italia e ehm sono in Sogei dove mi occupo di digitalizzazione della PIA eh tra le varie cose eh ho costituito ho costituito ho fondato e ehm eh coordino una scatola pensante un team tank che si chiama concretamente che ha tra i vari obiettivi proprio anche quello eh è un'associazione di promozione sociale una no profit di supportare le amministrazioni eh in processi di cambiamento e in processi di innovazione. Eh non vi annoio su altre cose dicendovi anche che sono docente universitaria a contratto c'ho dei contratti di eh appunto eh per insegnare ai ragazzi eh queste tematiche e startupper non poteva mancare in un curriculum eh come il mio il diciamo l'esperienza delle startupper. Eh ma eh di che cosa parliamo oggi? Eh oggi eh la la richiesta che il Formats mi ha fatto è appunto eh introduciamo andiamo dei principi eh quindi ho chiamato queste due lezioni che facciamo insieme questi due eh colloqui tanto ammetto Raffaele Mennone che è in sala d'attesa ok ehm abbiamo abbiamo detto di ehm dedicare queste due lezioni ai principi base agli elementi eh base ai principi eh di ehm reingegnerizzazione dei processi e di eh disegno di eh servizi digitali no? Eh quindi innanzitutto diciamo a che serve? A che serve reingegnerizzare e eh co-disegnare? Quindi in modo partecipato cercando di coinvolgere i cittadini quindi gli stakeholder esterni o i colleghi quindi gli stakeholder interni in un processo di sviluppo di nuovi servizi digitali. A che mi serve? Quindi cerchiamo di rispondere a questa domanda. Poi definiamo condividiamo un'ontologia. Cioè io purtroppo per una serie di ragioni che derivano soprattutto dal fatto che ormai si usano le grandi piattaforme di eh multinazionali statunitensi il nostro linguaggio è infarcito di inglesismi quindi eh condividiamo questo modo di di parlare questo slang questo eh questa deriva eh anglofona e quali sono i principi chiave della reingegnerizzazione dei processi nella pubblica amministrazione e del del servizio e del disegno dei servizi. Quindi eh definiamo il BPR cioè il Business Process Re-Engineering eh e eh vi do un flash anche su una cosa che a me diverte molto e piace molto che è l'introduzione dei bot quindi dell'auto eh dei chatbot dei bot dei robot eh né per automatizzare i processi dell'APA quindi come e se è possibile introdurre eh i robot eh nei nostri processi la pubblica amministrazione. Poi eh affronteremo questa è una parte un po' noiosa però vi tocca affronteremo molto rapidamente cercherò di farla veloce lo prometto eh a livelli internazionali quali sono le metodologie per fare eh reingegnerizzazione dei processi in ambito pubblico ok? Quali sono le metodologie più diffuse meno selezionate soltanto cinque cercheremo di far veloci insomma vi ve lo prometto. Poi invece il tema più divertente il tema più divertente è ehm che cos'è il design thinking e cos'è il service design cioè proprio gli strumenti eh la cassetta e gli attrezzi per disegnare eh dei servizi pubblici ehm facili da usare intuitivi ovviamente digitalizzati no? Ok. Ehm la seconda eh lezione invece eh si concentrerà principalmente qui faccio lo spoiler come nelle migliori serie americane eh ve lo spoilerizzo e vi anticipo le conclusioni ehm sarà dedicata principalmente a condividere una figata secondo me un'iniziativa del governo italiano che eh è attivo ormai da diversi anni non è recente che è in particolare eh sotto il cappello della eh dipartimento a trasformazione digitale della presidenza del consiglio dei ministri e ed è designers punto italia punto it che cos'è? È un team di esperti eh spesso provenienti dall'esterno della pubblica amministrazione di esperti di design di design di siti di servizi pubblici digitali che hanno sviluppato e reso disponibile su un ehm su un un sito della appunto che si chiama designers Italia punto it eh un manuale tanto io sto commentando ad ammettere i colleghi che sono in sala d'attesa che arrivano e che saluto buongiorno ehm e che appunto dicevamo designers punto Italia punto it sarà il punto di atterraggio di questa chiacchierata divisa in due lezioni oggi e e maggio ehm quindi vi sto spoilerando le conclusioni la eh la la il punto di di atterraggio sarà l'esame di eh questo manuale che ci insegna come disegnare eh servizi pubblici digitali eh intuitivi facili eh per l'utente da usare eh e diciamo nel rispetto di tutta la normativa per l'accessibilità eccetera eccetera no? Eh come dicono quelli bravi sempre usando termini eh inglesi eh che quindi sia orientato alla UX cioè la user experience e come dico io alla CX cioè la citizen experience cioè a valorizzare l'esperienza del cittadino che deve andare a cercare un servizio pubblico su un sito e spesso non si capisce nulla eh non è intuitivo non è eh facile no? Quindi ecco ridisegnare o disegnare ex novo dei servizi pubblici digitali che invece siano eh semplici intuitivi ok? Eh quindi questo sarà eh il nostro percorso quindi ripartiamo eh da da oggi eh intanto prego le colleghe Anna Rita Pamela se mi vogliono interrompere per ehm diciamo porre delle domande che magari arrivano in chat che io non vedo però come dicevamo io dedicherò una parte apposta alla eh alle domande risposte eh quindi come dicono quelli bravi alla Q&A question and answer eh e poi forse eh la regia quindi la dottoressa Aiello eh a un certo punto in base a a diciamo a a un'interpretazione dell'intelligenza artificiale eh della vostra stanchezza potrebbe chiamare una pausa e questo magari vediamo ok allora volevo aggiornarvi per ora in chat non ci sono domande ma comunque mi collego a quanto stava appunto dicendo il dottor Bertini che se avete domande dubbi eh richieste dichiarimenti noi siamo a disposizione potete utilizzare la chat o alzare la mano e magari le le segniamo e le le poniamo tutte insieme alla fine. Esatto. Per il momento eh intanto mettiamo anche Giuseppina Liuzzo. Certo. Ok. Allora buongiorno dottoressa Liuzzo noi abbiamo già un po' incominciato ci siamo presi un caffè digitale per presentare il corso e eh diciamo il programma ma non si è presa diciamo eh questioni fondamentali eccoci qua alla prima ehm alla prima slide nella quale ci diciamo ma perché io mi devo dedicare alla reingegnerizzazione dei processi e a queste tecniche per disegnare siti eh web e servizi digitali che siano intuitive e facili da usare per i cittadini perché lo devo fare cioè eh spiegatemi un attimo. Allora innanzitutto re eh ingegnerizzare eh reingegnerizzare ehm i processi eh mi porta ovviamente a eh un'attività di razionalizzazione eh del back office cioè della della mia organizzazione che eh è ovvio che mi porta a risparmiare tempi e costi eh risparmio dei dei tempi e fondamentalmente quindi un risparmio di processo è fondamentalmente l'elemento più importante ma non tanto per tagliare la pianta organica e ridurre i dipendenti perché anzi sappiamo che tutte le amministrazioni locali sono in sofferenza e ci vorrebbero più persone ma eh per riuscire a fare meno attività burocratica anche noi che siamo appunto lato dell'amministrazione cercare di fare meno attività burocratica e dedicarci eh ad attività a maggior valore aggiunto per i cittadini no? Eh quindi da questo punto di vista se io eh faccio ingegnerizzazione dei processi poi vedremo come posso anche introdurre de una robotizzazione dei processi quindi una automazione no? Posso inserire dei bot. Semplificare significa anche eh ridurre oneri per i cittadini perché anche per il cittadino che perde un botto di tempo a cercare eh presso l'amministrazione le informazioni eh quindi c'è un tema di front office di rapporto ai cittadini semplificare significa ridurre anche per lui eh i costi di processo eh e poi come abbiamo detto prima re-ingegnerizzare significa anche ridisegnare i servizi in un'ottica di CX cioè di citizen experience cioè rendendo quei servizi digitali più facili e intuitivi. Re-ingegnerizzare significa però anche standardizzare quindi se un processo di iscrizione alla scuola materna piuttosto che di eh eh richiesta di assistenza sociale lo riesco a rendere uguale tra più comuni eh in un'area eh geografica eh magari comuni appartenenti a una comunità montana io potrei riuscire in qualche modo anche poi a riusare eh dei processi sviluppati da una da una software house locale da una municipalizzata a condividere eh delle best practice no? Eh e poi non dimentichiamoci anche il tema dell'interoperabilità perché se il i i processi sono standardizzati riusabili eh e ingegnerizzati le informazioni i dati quindi eh possono essere più facilmente eh interoperabili tra eh database e quindi favorire anche il famoso tema che con un click scarico le le informazioni da da amministrazioni diverse no? Ovviamente tema fondamentale è la trasparenza se io riesco a tracciare in modo eh ingegnerizzato un flusso un processo il cittadino può sapere la propria pratica eh per esempio di tipo edilizio una cila eh dove si trova all'interno della pancia dell'amministrazione se si è bloccata da qualche parte se sta andando avanti nei tempi no? E quindi è un tema fondamentale sia nei nei rapporti col cittadino ma sia nei rapporti tante volte anche tra colleghi che uno non sa dove si è affermata eh una pratica no? E ultimo ma non ultimo è il tema della misurazione cioè eh è ovvio che se io riesco a reingegnerizzare standardizzare misurare eh posso anche andare a premiare no? Quindi la definizione di chi performance indicator legati eh non solo al numero delle eh delle pratiche cioè agli output ma al tema degli outcome cioè di come il cittadino eh vive quell'esperienza legata a quel servizio no? Quindi il cittadino c'ha un'aspettativa nei confronti eh diciamo del nostro operato lato pubblica amministrazione e eh questa aspettativa è eh diciamo se eh gli eroghiamo dei servizi digitali con un'ottima eh customer experience ovviamente sarà un'aspettativa che va eh nella direzione cioè viene eh fa scopa tra il servizio erogato e quello che lui si aspetta no? Quindi questa è la misurazione dell'outcome ok? Che per me è un tema fondamentale più della misurazione dell'output perché è inutile che io faccio tremila delibere all'anno se però il cittadino poi dopo eh rimane diciamo frustrato eh e e e non positivamente orientato nei confronti della dell'amministrazione no? Allora intanto come nelle migliori famiglie mi si è bloccato il ecco ok eh mi si era bloccato powerpoint. Sì tutto a posto. Ok eh una ontologia comune cioè molto rapidamente cerchiamo di condividere delle parole perché come dicevo prima ehm c'è anche un tema legato agli eh diciamo all'utilizzo massivo di termini inglesi e che voi mi direte oh madonna e palle sì è vero avete ragione è un tema è un argomento che spesso tocco però purtroppo come sapete bene ehm siamo investiti da eh una letteratura di management che che è tendenzialmente orientata che arriva dall'estero in più eh da ehm piattaforme informatiche sono di multinazionali americane quindi siamo bombardati da eh l'utilizzo di parole che quindi è anche giusto eh condividere in più ci sono dei temi che non sempre sono eh condivisi tra anche in italiano quindi eh è bene ridirci le certe cose. Allora innanzitutto il tema fondamentale di oggi è reingegnerizzare ma reingegnerizzare cosa? Quindi ingegnerizzare un flusso, un workflow significa che io vado a disegnare un processo dall'inizio alla fine prima proprio su carta no? Usando comunque un foglio eh una lavagna eh digitale ma comunque a scrivere proprio un diagramma di flusso diciamo per poi dopo andarla a digitalizzare ok? Perché altrimenti se io vado a digitalizzare subito un processo il rischio è quello di andare a digitalizzare una burocrazia cioè a digitalizzare degli errori a digitalizzare delle ridondanze quindi prima ingegnerizziamo un processo cerchiamo di togliere ridondanze e criticità correggerle e poi dopo lo andiamo a digitalizzare no? Quindi questo mi serve anche per andare a mappare che cosa? I processi interni all'amministrazione quindi io vado a mappare le SIS cioè come sono oggi eh come sono oggi dopodiché dopo che li ho ingegnerizzati cioè mappati io mi vado a immaginare come dovrebbero essere domani cioè il to be ok? Eh come dicevo prima correggendo eh togliendo ridondanze eccetera eccetera poi c'è questo tema tra eh il front office e il back office cioè il front office sono sono tutti i rapporti dell'amministrazione col cittadino mentre il e che quindi portano alla famosa CX e UX cioè la la citizen experience come la chiamo io cioè l'esperienza dei cittadini con nostri servizi e eh il disegno di servizi digitali che favoriscano la la user experience no? La UX quindi servizi digitali eh che siano l'abbiamo già detto non mi non mi stanco di ripeterlo facili intuitivi no? Ok? Eh ora per favorire la eh citizen experience ci sono tutte delle metodologie di management della citizen experience ok? Che si chiamano CXM cosa che nell'amministrazione spesso non non si usano e manco si conoscono no? Invece sono proprio importanti per orientare i servizi al cittadino o alle imprese comunque no? Eh quindi mh è è fondamentale riuscire come dicevamo prima eh per esempio non richiedere info non necessarie no? Eh chiedere le informazioni ad altre amministrazioni quindi government to government e non richiederle al cittadino eh mettere i cittadini o le imprese che ci chiedono dei servizi in eh in una situazione di attesa massimo di venti minuti ok? Quindi avere delle file eh che al massimo fanno ehm attendere venti minuti cioè sono e queste sono tutte pratiche per eh aumentare la qualità eh della della citizen experience. Cosa si intende per servizio digitale? Si intende un servizio dove c'è un provider cioè qualcuno che eh è una società di informatica che supporta l'amministrazione nell'erogazione del servizio possono essere aziende in house locali municipalizzate o eh società esterne delle quali il comune si avvale. Poi ci sono i colleghi del nel back office e gli utenti che eh ovviamente eh interagiscono con noi della dell'amministrazione. La definizione di un processo di erogazione è molti canali perché ci sono diversi canali di erogazione cioè quello fisico tradizionale ovviamente rimane in piedi lo sportello eh e quelli digitali quindi questi vengono tendenzialmente chiamati touch point cioè i momenti in cui il cittadino o l'impresa entra in contatto con noi pubblica amministrazione e questi punti di contatto cioè touch point possono essere fisici ripeto lo sportello oppure digitali eh può essere anche un totem cioè quei punti informativi con il monitor touch screen che io posso mettere nell'androne del comune no? Eh questo soprattutto nei piccoli comuni che dove non c'è aperto un servizio tutti i giorni H24 ci posso mettere un totem e quello diventa un punto di contatto digitale come un punto di contatto digitale può essere lo smartphone del del cittadino il pc e via dicendo il concetto di outcome l'abbiamo già eh detto eh l'outcome come si misura si misura con dei key performance indicator dei KPI quindi degli indicatori di performance che devono essere quantitativi non qualitativi e eh dei service level agreement cioè dei livelli di servizio che il comune va a stipulare con il provider cioè con l'azienda IT che eroga quei servizi eh dei livelli di servizio per esempio legati alla eh al ai tempi eh di risposta della delle piattaforme informatiche e via dicendo i eh processi devono essere standardizzati ok quindi vuol dire che devono essere sia cross canali eh sia cross servizio e bisogna cercare il più possibile di semplificarli come abbiamo detto cioè che significa eliminare la richiesta all'utente di dati non necessari eh eliminare la richiesta all'utente di eh azioni che si possono richiedere ad altre PA eh e eliminare le ridondanze decisionali ora il BPM cioè il Business Process Management ci serve per inserire il tema del GPM cioè il Government Process Management e il Government Process Reengineering dove la parola Government non significa governo eh nel senso governo centrale ma significa pubblica amministrazione in inglese ok quindi eh anche enti locali ovviamente no quindi è una disciplina è una disciplina che ci serve per andare a mappare come si sviluppano l'erogazione dei processi di un comune come un comune è organizzato analizzare misurare l'abbiamo detto prima e poi cercare di di migliorare questi processi ok e quindi di disegnare un'organizzazione per processi ok e questo approccio questa disciplina si fonda eh sia su elementi di TQM che avrete sentito nominare total quality management quello che ci dice che eh c'è sempre un miglioramento continuo che non ci si deve mai fermare quando è pronta una eh per esempio una documentazione una delibera ma si deve sempre tendere a un miglioramento continuo eccetera e eh e sia elementi di business process di engineering ok che eh è un concetto che eh ci dice che i miglioramenti possono essere sia incrementali come immaginiamoci potrebbe essere una riforma interna all'amministrazione sia eh a diciamo miglioramenti radicali quindi una rivoluzione diciamolo ecco eh un processo di business quindi un processo che serve per erogare servizi pubblici eh è un processo che eh il BPM il business process management ci dice che deve essere formato sia da risorse umane sia da sistemi informativi sia dai fornitori che ci danno appunto diciamo i provider eh e quindi ci serve di sviluppare un outcome quindi torniamo al discorso dell'outcome e non dell'output cioè a noi ci interessa andare a a monitorare la eh felicità diciamo così le aspettative dei cittadini ok non quante delibere produce l'amministrazione ricordiamocelo perché questo è un cambiamento culturale e noi dobbiamo portare presso le nostre amministrazioni ok quindi se i processi sono destrutturati e imprevedibili eh io ovviamente eh mi risulta difficile ingegnerizzarli no? Però su pochi i processi non prevedibili anche nel caso di una catastrofe di tipo idrogeologico eh un dissesto idrogeologico eh può essere previsto un fenomeno e quindi eh prevedere dei piani di evacuazione con la protezione civile e quant'altro no? Quindi alla fine eh anche una eh una catastrofe naturale potrebbe essere in qualche modo eh diciamo mappata e potrebbero essere anzi devono dovrebbero essere previste tutte le azioni per mitigarne i rischi no? Quindi se io riesco a ingegnerizzare e eh un un processo posso anche automatizzarlo e quindi ecco qua che posso andare a inserire la robotic process automation questo è un tema che a me eh diverte molto perché ovviamente già stiamo facendo un passettino avanti rispetto alla all'ingegnerizzazione cioè io ho ingegnerizzato un flusso un processo per esempio giusto per dirne uno l'iscrizione dei bambini alla materna ehm e posso poi dopo tutta l'attività di back office quello che c'è dietro cioè quando un genitore scrive il figlio inserisce dei dati a me dipendente comunale mi arrivano le richieste no? Eh se il processo non è ben ingegnerizzato mi arrivano a mail e poi io devo prendere quei dati e metterli a manella dentro un file excel faccio per dire no? Invece se il processo fosse automatizzato potrei mettere un bot che mi fa automaticamente questa cosa ora dite ah ma non è cioè qui siamo troppo avanti beh allora negli Stati Uniti eh che sì sono un po' un punto di riferimento ma non vi credete che sono milioni di anni luce avanti eh cioè basta una buona volontà eh c'è proprio un'agenzia nazionale che eh si occupa di supportare le amministrazioni nella eh robotic process automation e vedete a destra c'è eh questo lo screenshot della prima pagina di questa pubblicazione che loro fanno che racconta eh diciamo lo stato dell'arte ovviamente fa riferimento ad anni precedenti perché anche per loro non è semplice andare a eh monitorare costantemente in tempo reale anno per anno lo stato d'avanzamento però eh hanno eh oltre 100 amministrazioni del governo americano che eh ha eh ingegnerizzato 300 processi quindi 300 casi d'uso e ehm buongiorno dottor Del Negro eh mettiamo anche lei in in aula ci fa piacere eh la la diciamo che che si unisca a noi eh quindi dicevamo eh robotic process automation 300 casi d'uso di circa 100 amministrazioni del governo americano ehm che cosa fanno? Configurano dei bot, dei chatbot eh o altri tipi di bot eh comunque dei dei robot insomma per andare a a a eseguire eh delle attività eh ripetitive no? Eh eh quindi questo perché perché così consentano a noi lato pubblica amministrazione di risparmiare tempo facevamo l'esempio del eh genitore che scrive figli a scuola alla materna e ci arriva a noi lato pubblica amministrazione la se siamo per esempio un comune piccolo e non ha ingegnerizzato i processi ci arriva una mail no? Una mail che io devo prendere quei dati e inserirli in un file Excel. Ecco immaginiamo che il processo sia ingegnerizzato c'è un bot che ce lo fa e e quindi mi si autocrea eh un un eh un file Excel che mi mette in ordine anzi con dei punteggi eccetera eccetera eh l'iscrizione alla materna e che magari automaticamente risponde anche ai genitori dicendo eh suo figlio ha messo oppure non ha messo e che alla fine mi tira fuori la classifica e me la pubblica online sul sito per la trasparenza no? Ecco sono attività facilmente eh realizzabili per giusto per fare un esempio semplice eh lo stato dell'arte della della RPA cioè della Robotic Process Automation negli Stati Uniti è raccontato in questo in questo volume eh che nell'ultima versione del 2022 eh ci eh propone anche un modello di maturità che è una figata no? Eh ora eh modello di maturità eh che praticamente ci consente di ehm mappare ovviamente queste cento amministrazioni che si citava prima ma soprattutto eh avere lo stimolo per eh orientarsi verso quella direzione e provarci no? Quindi eh le componenti di questo gli elementi che costituiscono questo paniere di maturità sono nella prima colonna e eh appunto vedete sono per esempio l'automazione eh dei processi ovviamente è in fondo l'ultima eh riga è l'introduzione di eh algoritmi di AI no? Di intelligenza artificiale ehm ovviamente come vedete questa ultima riga è la parte più matura probabilmente del del modello e ce l'hanno solo cinque casi eh tra queste cento amministrazioni che si citava prima no? Eh quindi anche eh negli Stati Uniti insomma eh che sono un po' sempre un punto di riferimento eh si sta c'è una progressione ma eh diciamo abbastanza eh lenta insomma anche su queste cose. Ora la la l'elemento interessante se guardiamo l'ultima colonna eh è che appunto il processo di automazione eh i processi di automazione sono l'elemento fondamentale eh ma anche la la cosa interessante è il calcolo delle ore annue di risparmio di processo no? Cioè loro ti calcolano quanto attraverso i bot eh la robotic process automation io posso risparmiare del lavoro dei dipendenti no? Questa è anche questo è ehm un elemento molto interessante come un elemento molto interessante è anche quello legato a eh al miglioramento eh del nella reingegnerizzazione dei processi no? E process improvement eh comunque è un modello un modello di maturità eh che eh è un punto di riferimento può essere utile eh per fare un passo avanti dopo la reingegnerizzazione. Ora adesso c'è la parte un po' più noiosa eh cioè quali sono i eh framework cioè i modelli per fare eh la reingegnerizzazione dei processi ve ne ho selezionati alcuni cercherò di darvi delle 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 pillole eh quindi il primo è eh il cobit eh il cobit è ehm stato messo in piedi alla fine degli anni novanta dalla Isaca che ha un chapter anche italiano eh vi ho messo lo screenshot sotto a destra c'ha la il sito in italiano è praticamente nata come ehm la un'associazione degli auditor eh del dell'IT ma in realtà è ehm diciamo poi si è allargata a a tutti coloro a tutti i professional che lavorano nel settore informatico e delle tecnologie informatiche dell'IT eh anche nel settore pubblico e e quindi ehm diciamo è un'associazione molto importante molto di peso anche a livello internazionale ehm l'obiettivo è quello di supportare un'organizzazione complessa eh o anche una piccola amministrazione a avere a disegnare un proprio modello di governance dei servizi digitali come fare a crearlo e come fare a metterlo a terra no? Eh è eh ampiamente adottato nel settore della pubblica amministrazione eh e si concentra su questi obiettivi che vi ho messo a a sinistra cioè cercare soprattutto di collegare gli obiettivi della parte informatica e della digitalizzazione agli obiettivi dell'organizzazione in modo da tenere sempre legati eh gli obiettivi anche degli degli stakeholder istituzionali degli assessori per capirci con eh gli obiettivi di di chi poi del referente informatico del dirigente informatico e deve mettere a terra i servizi digitali poi c'è un modello per disegnare i processi un modello per effettuare i controlli un modello di maturità e eh una balance scorecard eh altro eh framework è quello dell'ITIL anche questo l'avrete sentito nominare molto famoso eh l'ITIL fondamentalmente propone eh un modello eh per migrare da un'organizzazione diciamo industriale a un'organizzazione basata sull'erogazione di servizi che è quello proprio di cui vogliamo parlare oggi cioè immaginare eh i eh l'erogazione al cittadino di servizi digitali no? Ok. Nasce negli anni ottanta nel Regno Unito e eh fondamentalmente come vedete anche nel disegno a destra eh c'ha una parte di servizi eh delle operazioni una parte di disegno dei servizi è una parte di transizione verso i servizi quindi supporta ehm eh questo approccio nella pubblica amministrazione è usato però non quanto il COBIT e mh l'ultima versione dell'ITIL è eh al duemila undici ora come vedete eh come vedremo anche dopo eh anche da dall'insigma eh le ultime versioni non sono proprio del duemilaventi duemilaventiquattro sono un po' precedenti e poi capiremo perché perché poi alla fine tutti si stanno orientando verso modelli più di eh spinti verso la CX verso la UX e verso il service design che è l'argomento che che trattiamo dopo ora altro tema altro modello eh in eh il modello Lean Sigma eh è eh quello che eh eh diciamo è famoso dagli anni ottanta e in poi perché nasce negli Stati Uniti per eh trovare un alter ego al modello Kaizen giapponese quello famoso della della Honda o della Mitsubishi e via dicendo no? E quindi nasce eh per eh orientare le aziende soprattutto le le industrie eh automobilistiche no? Eh e TLC eh americane verso un un processo di continuo miglioramento miglioramento continuo no? Eh quindi miglioramento continuo si raggiunge attraverso la minimizzazione degli errori eh la minimizzazione delle variabilità no? Quindi eh togliere le 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 code delle 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 gaussiane la è la R cioè quindi le le varie lo scarto quadratino medio ehm quindi punta sulla razionalizzazione dei costi eh e dei tempi di processo no? Eh quando è stato applicato nel settore pubblico anche se raramente ha dimostrato però una grande eh una grande validità una grande efficacia soprattutto nella riduzione dei tempi eh nell'erogazione dei servizi. Ah scusate io ovviamente metto sempre le fonti eh in tutti i eh diciamo le citazioni le figure eccetera e poi in fondo trovate la bibliografia dove poter andare anche a riprendere eh eventuali anche prima ho citato un volume eh statunitense sulla RPA sulla robotic process automation eh ovviamente è citato in bibliografia. Allora BPMN è ci avviciniamo anche un po' come tempi a oggi eh infatti l'ultima versione del duemila quattordici eh la business process model and notation è un sistema per disegnare i flussi eh quindi per modellizzare e rappresentare i processi e e ehm è stato applicato è utilizzato nel settore pubblico anche a livello locale eh e soprattutto per appunto mappare no? Quindi per cercare di comprendere eh una eh un processo come viene erogato erogato da un'amministrazione per facilitare anche con la il disegno e la visualizzazione grafica di un processo per aiutare i dipartimenti di un'amministrazione a collaborare no? Eh per aiutare gli utenti anche per esempio quando una un cittadino entra in comune vuole capire come eh deve fare per eh diciamo richiedere un atto eh in alcuni comuni per esempio gli inglesi si trovano eh il il disegnino del processo eh nella bacheca comunale no? Cioè giusto anche per visualizzarvi eh un un caso d'uso. Eh Togaf invece è un altro framework eh molto diffuso eh soprattutto in ambito difesa perché nasce proprio dal dipartimento della difesa americano e ed è sviluppato anche da è stato sviluppato da una società di consulenza si chiama Cap Gemini e mh la la l'architettura che loro propongono porta appunto a disegnare l'architettura eh dei servizi digitali di un'organizzazione quindi di un comune ed è su quattro domini cioè la produzione del servizio cioè quindi l'erogazione del servizio al cittadino o alle imprese il dato quindi i dati che che derivano eh da dall'interazione con i cittadini prima si faceva l'esempio del genitore che scrive il figlio eh alla materna quindi i dati del del bambino eh le applicazioni IT informatiche che servono a gestire eh eh e la tecnologia che ci sta dietro. Ok arriviamo a un caso d'uso. Eh questo è eh ho trovato uno dei dei diciamo nella nella bibliografia che vi sottopongo e che vi e che vi lascio secondo me eh se avete voglia e tempo di leggervi eh un manuale ehm che supporta che può supportare l'amministrazione a fare government process reengineering questo è eh un must to read insomma una delle cose che vi tocca eh come dicono a Roma eh una cosa da da leggere ehm cioè a me è piaciuto molto è un manuale che ha sviluppato eh l'ONU con l'Unione Europea per il ministro della giustizia il ministero della giustizia della Repubblica eh dell'Uzbekistan no? Eh e eh qui troviamo eh due elementi interessanti. Il primo elemento è una dettagliata analisi di tutte le fasi eh che eh servono che sia che sono spiccabili che bisogna mettere a terra per eh reingegnerizzare un processo. Ok? E poi dopo le 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 scorriamo è la tabella a sinistra. Come vedete non è una cosa semplice se fatta bene ovviamente no? La seconda cosa che va spiegata molto spesso ai nostri stakeholder istituzionali quindi agli assessori piuttosto che ai direttori è che fare una reingegnerizzazione non è una cosa che si fa in una settimana con l'occhio sinistro dedicato a altre cose e la mano destra la macchinetta e caffè cioè bisogna mettersi giù con un team di persone e eh e ci vogliono due anni, due anni e mezzo, ok? A reingegnerizzare per bene un processo soprattutto se l'amministrazione non è una microamministrazione, ok? Ora eh eh lo so che voi siete in comuni piccoli quindi magari i processi sono più snelli e e gli gli stakeholder sono minori quindi è anche più facile da da disegnare un processo però eh se l'amministrazione è un po' più grande eh da una fase di preparazione alla reingegnerizzazione del processo a una fase due di mappatura dell'esis no? L'abbiamo detto prima ecco se cioè come è fatto il processo oggi come il comune è organizzato per erogare servizi di assistenza sociale per esempio eh come vorremmo che fosse quindi il disegno della fase tre il to be come vorremmo che fosse a una fase di preparazione dell'implementazione no? A una fase di progetto pilota cioè perché prima bisogna testare eh no? Quello che vogliamo mettere a terra prima di metterla a terra una fase sei di eh produzione e poi una fase sette di misurazione testing eh follow up eccetera eh ci vogliono due anni e mezzo quindi non è uno si è fatta seriamente non è uno scherzo però se noi immaginiamo di cominciare a eh ingegnerizzare eh uno due processi per per anno eh nel giro anche di un mandato di una consigliatura si può riuscire a eh mappare una decina di mappare ingegnerizzare una decina di processi che anche nei confronti dell'impatto con gli utenti eh coi cittadini con le imprese e comunque con gli elettori perché sappiamo bene che i nostri assessori reagiscono a eh ovviamente spinte elettorali e può essere anche un un progetto molto interessante perché comunque dimostri al cittadino all'utente finale che la nostra amministrazione è dinamica e sta andando nei confronti del ridisegno di servizi digitali di grande impatto no? Quindi a sinistra trovate un dettaglio di eh come si dovrebbe eh fare una reingegnerizzazione quindi la prima fase di preparazione è eh diciamo fondamentalmente una fase in cui si mette eh si definisce si mettono i puntini sulle i a quello che è un team di persone che non lo possiamo fare da soli a eh anche a delle risorse almeno in termini di giornate persona che dobbiamo allocare a fare questa attività qua vi ripeto non è un'attività che si improvvisa comunque sia anche se il processo è piccolo è facile da ingegnerizzare dobbiamo condividere col nostro stakeholder interno di riferimento che sia l'assessore che sia il sindaco che sia un dirigente IT che eh per realizzare una reingegnerizzazione ci vogliono otto giornate persone all'anno ok? Quindi un team un budget eh in termini di giornate persona o in termini di supporto esterno se c'è la società di informatica del comune, una municipalizzata, una società esterna, una società di consulenza che eh ci supporta in questa attività ovviamente sapete che ci sono i voucher del PSN ci sono i fondi per il PNRR eccetera eccetera le opportunità in questo momento per un comune di eh fare questa attività anche con il supporto governativo mi pare che ci siano insomma no? Non ve lo devo insegnare io. Eh da lì a scendere eh la mappatura di eh come oggi il comune eroga quel servizio eh che tipo di informatica si usa oggi se vogliamo andare a eh compararlo con altri comuni che erogano la stessa cosa ci serve un'analisi di benchmark cioè l'analisi comparata no? Poi dopo prepariamoci a disegnare il futuro cioè come vorremmo che eh avvenisse quindi una semplificazione delle dei processi interni eh un ridisegno dei processi una proposta di utilizzo di eh software o di piattaforme informatiche prima vi facevo l'esempio dell'introduzione di un robot di un bot che riceve i dati dell'iscrizione di un bambino alla materna automaticamente li mette in un file excel fa la classifica degli ammessi non ammessi in base a punte gse eh tira fuori eh la classifica finale la pubblica sul sito del comune e manda ai genitori le mail questa è una cosa che un bot può fare e e quindi eh si può tranquillamente ingegnerizzare. Eh una una proposta di implementazione l'attività pilota perché non è che si può mettere eh in piedi un processo premere on e eh mandarlo ai cittadini va testato con un panel di cittadini disponibili a testare questa attività come sapete ehm c'è un'attività di co eh testing che si chiama crowd testing fatta con panel di cittadini anche su questo ci sono i fondi e eh ci sono già contratti quadro consip attivi per fare queste attività quindi non vi sto inventando nulla di non realizzabile e e ovviamente attività di ingresso in produzione e poi una tema fondamentale per me il monitoraggio cioè quindi avere anche dei cruscotti che eh monitorano eh il funzionamento di quel servizio digitale. Entriamo sulla parte più divertente eh il service design e design thinking intanto siamo alle dieci quindi io chiedo alla regia se c'è necessità di fermarsi o no se no io vado avanti anche perché siamo molto indietro quindi. Ok andiamo avanti andiamo avanti. Perfetto. Se ci sono domande io e Anna Rita la collega Budelli siamo assolutamente a disposizione per la chat quindi. Perfetto. Vedo interventi per ora quindi possiamo continuare. Grazie. Ok quindi come al solito quando non ci sono domande le cose sono due o sono tutti addormentati o sono tutti svenuti perché. O è tutto chiaro. Come sappiamo bene poi la difficoltà delle lezioni online è sempre quella di non riuscire a vedere la platea perché sennò uno almeno all'università si accorge dalla palpebra degli studenti no? Quando quando cala eh ti accorgi che devi cercare di ravvivare e quando invece sono più svegli è no? Eh la la difficoltà dei webinar è sempre un po' questa. Io spero che i colleghi che ci ascoltano non si stiano annoiando troppo. Comunque ora entriamo nella parte un po' più divertente. Ok. Magari chiedo un feedback ai colleghi se è tutto chiaro. Se volete eh in chat siamo leggiamo. Se i concetti sono troppo facili vado più veloce eh. Aspettiamo aspettiamo feedback e poi te li restituisco ci ci ti lascio la parola. Va bene grazie. Quindi allora che cos'è il service design? Eh il service design è un approccio che è eh diciamo si cominciava a diffondere negli dieci anni fondamentalmente eh in primis nel settore privato ovvio e soprattutto nel settore dell'e-commerce per cercare di disegnare dei servizi di vendita fondamentalmente no? Eh pensate a chi compra alle colleghe donne che usano Zalando per comprarsi le scarpe faccio riferimento alle donne perché vedo mia moglie eh è un continuo via vai di scatole di scarpe in casa eh presi resi eccetera eccetera che disegnano ovviamente le aziende di e-commerce che disegnano eh servizi che eh riescano a intercettare sempre meglio i bisogni dei dei consumatori e eh e con una facile UX come abbiamo detto lì cioè la user experience. Nel caso nostro la citizen experience l'esperienza del cittadino eh quindi tutto questo approccio viene usato dall'EPA eh per disegnare servizi digitali sempre più più facili e intuitivi. Bene. Combina che cosa è il service design? Il tema ve l'ho già detto, ho introdotto, ho ridetto cento volte, comunque mi piace ridirlo perché eh dobbiamo far cultura su questo. Il tema della CX quindi customer experience nel nostro caso citizen experience con la re-engineerizzazione dei processi. Ecco perché fino ad ora abbiamo parlato di eh government process re-engineering, no? Non a caso. Eh quindi il service design considera l'esperienza del cittadino sul front office come elemento cardine e l'ingegnerizzazione dei processi per il back office. Ecco perché appunto abbiamo introdotto questi temi. Quindi front office e back office, front office la CX, la UX, back office la GPR cioè government process re-engineering. Ok. È un approccio olistico, cioè un approccio che eh integra la pianificazione, la componente organizzativa, cioè come comune se è strutturata all'interno per erogare i servizi, la componente di processo, no? La componente tecnologica, cioè che piattaforme informate che uso per fare queste cose e la parte infrastrutturale, cioè è ovvio se io eh non c'ho la la connettività perché in un comune non mi arriva la banda e il il cittadino sta in una zona montuosa dove non gli funziona nemmeno il telefono e quindi c'è una parte infrastrutturale da considerare, è è importante, no? È ovvio. Eh è una materia moderna e quindi non è che c'è una definizione, cioè diciamocelo chiaramente ogni dipartimento universitario di ogni eh università e facoltà di ingegneria o dipartimento di ingegneria che si occupa di queste tematiche da o nella propria letteratura scientifica e i propri docenti scrivono nelle riviste internazionali da una definizione, quindi non è che c'è una definizione univoca, però il tema è questo qua che vi ho raccontato eh adesso. Quindi a destra c'è una eh un'immagine che eh se mi serve solo per eh rimettere in chiaro la differenza tra back office e front office. L'immagine è quella di una farmacia eh statunitense negli ospedali, come sapete il sistema statunitense della sanità è un sistema privato, però ci sono degli ospedali pubblici e ci sono le farmacie pubbliche che sono negli ospedali. Quindi cosa succede? Che eh il governo americano a un certo punto ha detto proviamo a fare service design del servizio delle farmacie pubbliche degli ospedali e eh Deloitte la società di consulenza ha pubblicato questo studio dove ha eh dimostrato che l'introduzione del service design nelle farmacie eh ha permesso di ottimizzare i processi quindi il back office tutto quello che c'è dietro lato nostro lato pubblica amministrazione di ottimizzare i processi del venticinque per cento quindi diminuire fondamentalmente i tempi di processo cioè orali ora poi nel disegnino lo vediamo e di aumentare la soddisfazione degli utenti cioè la CX del ventidue per cento cioè che è tanta roba e comunque ci reinserisce un tema importante quello della misurazione no? La misurazione se no poi no non non possiamo tornare al nostro benedetto assessore a dirgli guardi questi sono i dati e questo è l'impatto sui cittadini perché quello che poi a lui gli interessa è in campagna elettorale prende più voti no? Invece a noi ci interessa ovviamente sia eh cioè soprattutto migliorare la qualità dei servizi no? Ok. Però le due cose alla fine sono collegate ok? Quindi ehm il eh front office arriva l'utente entra in farmacia c'ha la ricetta va al bancone vi è remisurato tutto questo percorso attraverso delle tecniche e poi dopo vedremo eh nella cassetta degli attrezzi che possono essere per esempio una tecnica ve la spoilero eh lo user shadowing cioè io faccio l'allombra proprio al percorso dell'utente metto accanto a lui e mappo quello che l'utente fa quando entra in un ufficio pubblico e vado a vedere eh insieme a lui se è chiaro quando entra l'ufficio dove sono i cartelli degli uffici eh se è chiaro quando trova il cartello l'ufficio gli orari eh se eh il dipendente pubblico risponde in maniera carina o è evasivo per usare un eufemismo ehm ecco questa è tutta l'attività di front office la vado a mappare ok? Dopodiché che succede? Lui eh c'è un touch point l'abbiamo definito prima c'è un punto di contatto che può essere eh fisico in questo caso è la farmacista no? O può essere pure digitale cioè eh l'utente fa l'ordine usando il telefonino no? Sul sito della farmacia eh comunale quindi è un ordine che può essere un touch point fisico o digitale comunque il boccino passa la palla passa a noi lato pubblico amministrazione e lì mi si attiva un processo no? Mi si attiva un processo lato interno che è un processo di eh in questo caso invio l'ordine alla farmaceutica che mi deve c'è un processo di logistica a parte il camion mi porta la scatola ai medicinali i medicinali vengono immagazzinati con un ciclo del freddo ovviamente e mi vengono poi consegnati alle diverse farmacie eh comunali no? E e quindi c'è un processo interno che è quindi front office e back office ci sono degli elementi critici che eh delle volte cioè ci portano anche a sorridere eh che rendono ospicabile l'introduzione del service design e l'amministrazione ve li dico rapidamente il primo è eh cioè è un tema è un paradosso ma eh cioè è vero cioè che è il paradosso della limitata conoscenza dei cittadini cioè se l'azienda di e-commerce che vende le scarpe conosce perfettamente l'audience il target no? Perché sa tutti i propri dati i dati del target no? Dei consumatori perché il consumatore va sul sito si profila inserisce data di nascita gusti preferenze sul sito e quindi l'azienda che fa i commerce registra tutti questi dati dell'esperienza utente sul sito perché ci mappa eh l'amministrazione non lo fa cioè eh come ben sapete se un cittadino viene su un sito di un comune è difficile che l'amministrazione riesca a registrare tutti i dati eh del cittadino perché ancora non ci abbiamo questo approccio oppure ci abbiamo tutti i dati perché magari eh ci sono i dati dell'anagrafe tributaria ci sono i dati dell'INPS ci sono i dati dell'INAIL ci sono tutti i dati che volete però eh i dati del dell'ACI del registro pubblico automobilistico eccetera ma l'amministrazione non riesce a usarli per esempio in maniera produttiva per sapere che a me cittadino mi sta scadendo la carta d'identità e quindi mi manda l'amministrazione manda a me un whatsapp sms email in cui mi dice caro cittadino ti sta scadendo la carta d'identità e eh il tal giorno ti ho già prenotato la ehm l'incontro la l'appuntamento all'ufficio anagrafe del comune eh per farti la carta d'identità nuova ok c'è questa cosa che sembra eh futuristica in realtà sarebbe facilissima da da introdurre e da da applicare no? Altro tema è quello dei silos cioè ogni eh servizio ogni processo è un silos diverso i processi non sono i servizi non sono integrati il servizio di assistenza sociale non è integrato con quello dell'iscrizione a scuola dei bambini e via dicendo il risultato che non c'è un front office unico con i cittadini ogni ogni utente ha eh ogni cittadino ha una sua storia fatta spesso anche di cronicità di comorbidità di problemi coi figli o coi genitori anziani no? Eh e tutte queste cose noi pubblica amministrazione spesso non non le sappiamo eh e quindi invece dovremmo riuscire a immagazzinare questi dati per gestire queste complessità per entrare in empatia eh con l'utente col cittadino perché ogni cittadino non è uno standard e quindi dovremmo riuscire a gestire dei servizi profilati altro tema è che molto spesso le nostre piattaforme sono inadeguate sono piattaforme digitali che non hanno eh i requisiti dell'accessibilità eh quindi per un non udente o non vedente sono difficili da usare ehm hanno tutta una serie di criticità insomma che alla fine sono un boomerang per l'amministrazione stessa perché i cittadini si arrabbiano e protestano stessa cosa eh eh il tema legato ai contact center quando esistono perché non sempre ci sono i contact center per i cittadini da da poter chiamare quando esistono magari causano dei dei servizi non rispondono correttamente in tempo non danno le informazioni giuste insomma alla fine eh anche quelli possono essere un boomerang invece è fondamentale riuscire a unire a un servizio digitale un servizio di contact center perché molto spesso i cittadini sono anziani e non sanno usare le piattaforme digitali e poi c'è il tema legato anche alla complessità normativa se la normativa cambia è ovvio che devi reingegnerizzare i processi per rendere la frunzione a norma ora ma se il service design è fondamentale che mi serve un service designer cioè eh sarebbe importante che i responsabili per la trasformazione digitale di un comune fossero anche eh incaricati di eh di questo ruolo no? Quindi bisognerebbe fargli appunto formazione e poi dopo anche eh riconoscerli in varie forme eh anche economiche secondo me il eh ruolo di service designer no? Quindi a che mi serve un service designer? per esempio nel settore eh privato dell'e-commerce perché un'azienda chiama o assume dei service designer? Innanzitutto perché eh il service designer attraverso tutta una serie di azioni eh coi cittadini capisce le loro eh i loro fabbisogni no? Eh quindi entra in empatia con l'utente entrare in empatia eh è fondamentale per disegnare dei servizi digitali e poi funzionano veramente perché se te non entri in empatia con le difficoltà degli altri per esempio con chi ha un figlio neuro diverso non riesci a disegnare dei servizi che vanno in quella direzione lì ok? Eh sviluppa i prototipi il service designer è un po' un Leonardo da Vinci no? Che ti fa la macchina volante la prova la riprova gli riesce male casca la ricostruisce però è fondamentale che sappia costruire dei prototipi dei mockup che ehm facciano vedere anche agli stakeholder del comune dell'amministrazione come come eh come funzionerebbe una una certa cosa no? Questo serve anche per minimizzare i rischi del dello sviluppo poi successivo della soluzione per ottenere dei feedback no? Eccetera. E eh fondamentale altro elemento per me eh eh è utilissimo anche se vi torno a dire poco usato l'utilizzo di strumenti di co-design quindi mettere insieme dei panel di utenti o dei panel di colleghi e disegnare insieme dei servizi oppure testare insieme dei servizi no? Il service design si fa in cinque fasi che sono reiterative ok? Quindi c'è una fase iniziale in cui si cerca di capire con l'amministrazione con l'assessore di turno io faccio chiamo sempre in causa l'assessore no? Eh chiamo l'assessore e condivido con lui eh gli obiettivi di questa attività faccio un'attività di eh mappatura di discovery creo cerco di capire quali sono le opportunità di miglioramento faccio i prototipi li testo poi disegno una roadmap di sviluppo e metto a terra ok? Ora questa slide pienissima che poi vi ho spaccato in tre eh in tre slide successive in due slide successive è un altro libro che che vi suggerisco perché è molto carino ed è eh un manuale un caso d'uso un white book fondamentalmente eh che hanno sviluppato i canadesi in particolare il distretto del British Columbia eh per ehm raccontare il modello di service design è un modello che si articola nelle fasi che sono descritte di sopra ma che ci siamo già detti anche prima eh quindi c'è una fase iniziale di condivisione con gli stakeholder del comune con l'assessore per capirci di quali sono gli obiettivi no? Ci deve essere un commitment e ci deve avere uno sponsor interno all'amministrazione eh un dirigente un il sindaco l'assessore che mi dici mette la mano sulla sulla spalla e mi dici ok procedi perché su questa cosa io ci tengo se non c'è questo non vi imbarcate in azioni donkey shot esche perché sono battaglie come linea al vento eh quindi la prima cosa è questa capiamo eh e condividiamo insieme poi c'è una fase di discovery cioè di eh mappatura dello stato corrente delle di come il comune eroga dei i servizi l'abbiamo detto no? L'esiz come è oggi esiz poi c'è un'attività di eh definizione del to be cioè come io lo vorrei ok? Quindi la reingegnerizzazione di questo processo dopo c'è una fase di sviluppo dei prototipi abbiamo detto Leonardo da Vinci che fa la macchina volante no? Eh casca si rompe riprova e la rifà eh a che mi serve il prototipo il prototipo di legno di Leonardo da Vinci mi serve per far vedere agli altri che quello che c'ho in testa non è un disegno ma è un prototipo funziona eh e eh lo posso migliorare chiedere dei feedback no? Come lo posso migliorare? Poi vado a sviluppare un cronoprogramma una roadmap e infine lo vado a mettere a terra allora tutto questo film che vi ho raccontato eh è descritto nel dettaglio in questo volume che eh vi ho eh riportato eh qui e poi anche in bibliografia eh ben citato e quindi ve lo potete scaricare online se non vedete bene queste eh diciamo questi contenuti che sono molto densi e e c'è tanta roba dentro allora siccome anche per ragioni di tempo perché mancano mi sembra dieci minuti chiedo conferma eh dalla regia alla termine della eh della lezione eh io su questi materiali ci torno dopo però intanto vi vorrei far vedere delle altre cose cioè che riguardano gli strumenti degli degli attrezzi sì sì dieci minuti dieci minuti più o meno allora il service design abbiamo detto che cos'è il design thinking design thinking eh è un sottinsieme del service design ed è un metodo basato di nuovo torniamo a dire questo punto perché è importante sulla prototipazione su testi iterativi cioè Leonardo Leonardo da Vinci che fa la macchina volante se rompe gli eh la rifà ok bene e nasce da dagli degli architetti dagli urbanisti ok quindi nasce all'MIT a Boston nella fine degli anni ottanta ehm altro esempio di eh design thinking è quello dei fratelli Wright no cioè che eh fanno eh i eh i primi aerei no cioè fanno dei prototipi per vedere se vola ok eh quindi eh l'elemento chiave della eh framework di design thinking che come vedete a destra è quello proprio di Stanford che dice prima di tutto dovete entrare in empatia eh con gli utenti capire eh i le loro eh esigenze e poi dopo una fase di ideazione dovete entrare nella fase di definizione prototipazione e test la cosa fondamentale è non aver paura di sbagliare ok quindi lanciarsi nei prototipi fare ascolto attivo quindi coprogettazione l'abbiamo detto 50 volte eh e ascoltare le idee degli altri come si fa il design thinking a questo è una roba che l'avete sicuramente sentita perché è diffusissima trita e ritrita io ho portato duecento dirigenti IT della Pia Centrale dello Stato al castello di Santa Severa nel Lazio eh a fare design thinking per sviluppare nuovi servizi IT per i cittadini delle Pia Centrale dello Stato e abbiamo usato il metodo del doppio diamante eh attraverso dei gli ho divisi in gruppi di lavoro e abbiamo eh lavorato così sicuramente lo conoscete anche voi quindi vado rapido eh però è un metodo riconosciuto cioè ci sono delle fasi di creatività che si chiamano di divergenza cioè apro e delle fasi invece in cui io devo quagliare e si chiamano di convergenza cioè vado a sintetizzare a scrivere quello che è venuto fuori dalle fasi di eh creatività di brainstorming no eccetera eh quindi la fase iniziale io definisco un problema una sfida ad esempio eh l'iscrizione dei bambini a scuola no eh alle materne e la la classifica i sei quelli che mi stanno fuori quelli che mi stanno dentro tutti gli anni succedono i casini lo sapete bene quindi eh c'è un problema oppure le buche del eh le buche del del tessuto stradale del comune eh anche quello è un altro problema come le fa le faccio a individuare a mappare con l'aiuto dei cittadini ok cioè metto un panel di cittadini insieme o di colleghi insieme e in una fase iniziale faccio una scoperta quindi un'attività di apertura per esempio usando dei modelli canvas che quelli che metto i post it eh sul su un tabellone per cercare di ehm eh fare un brainstorming e tirare fuori delle delle idee su quel problema dopodiché individuo una fase di convergenza eh sintetizzo e tiro fuori una fase di eh opportunità delle intuizioni una volta che ho definito eh questa prima fase di eh progetto iniziale vado invece a fare un altro diamante per mettere a terra la soluzione quindi anche qui quali soluzioni tecnologiche di informatiche posso usare per mappare le buche per terra per esempio una app con le fotografie piuttosto che un altro dice no mando le fotografie una web application sul sito del comune e via dicendo quindi apro e poi un'altra fase di convergenza dove vado a eh chiudere a tirare fuori un prototipo lo vado a testare e poi metto a terra la soluzione quindi service design e design thinking il service design è un nuovo modo di ridisegnare i servizi il design thinking è proprio un processo di progettazione ok ma vediamo eh poi ci torniamo la nella prossima lezione la cassetta e gli attrezzi cioè come tutta questa roba che abbiamo raccontato fino a fino a ora cioè ho fatto l'ingegnerizzazione dei processi attraverso il government process reengineering ho fatto una intercettazione della customer experience di quello che vogliono gli utenti eh dei cittadini eccetera li metto insieme comincio a a disegnare un soluzione attraverso il metodo del doppio diamante dopodiché quali sono gli strumenti concreti me li visualizzi leonardo bertini ok eccoli qua allora ho gli strumenti per fare la parte di discover la parte di definizione la parte di sviluppo delle soluzioni e la parte di messa a terra cioè di delivery ok vediamoli allora il primo eh e probabilmente il più conosciuto è lo user journey cioè il viaggio dell'utente studente no quando arriva nel comune qual è il suo eh processo cosa fa allora quindi c'è una proprio dobbiamo riuscire a disegnare un diagramma del viaggio dell'utente verso il servizio è lungo il servizio che lui fruisce dal suo punto di vista per arrivare come è nella famosa eh diciamo imbuto dell'acquisto del settore e-commerce noi lo dobbiamo applicare al settore dei servizi pubblici ci deve essere da una fase del cittadino in cui c'è un risveglio una governance lui dice oh ma io ho bisogno di un servizio di asilo nido ok cioè come faccio a ottenerlo? Ah un'attività di action cioè che il cittadino è effettivamente arrivato sul portale del comune trova il la parte dei servizi eh ai per i bambini iscrivi figli a scuola ok quindi tutto questo percorso io devo andare a definirlo valutarlo decidere eh no eh seguire eh l'ente erogatore per esempio la scuola o l'ospedale all'interno del territorio comunale eh come il l'utente arriva a acquistare o tra virgolette a a diciamo fare il check in eh di un servizio e via dicendo per descrivere tutto questo lo posso fare attraverso un vero e proprio diario cioè io faccio dei focus gruppo dei panel di cittadini con cui li chiedo a degli utenti agli utenti proprio un vero e proprio diario come faresti questa cosa ma una molto interessante più che il il diario è il service safari cioè eh praticamente c'è il designer quello abbiamo detto prima cioè il responsabile informatico noi stessi oppure il consulente esterno se c'ho eh delle delle risorse da da investire ehm chiamo eh una persona quindi chiamiamo un ricercatore un designer eh e questa persona fruisce lui stesso del servizio e quindi prova lui a fare un safari e quindi a descrivere fotografare eh vedere come effettivamente eh funziona un servizio quindi proprio lui va eh in comune e fa anche un video col telefonino per vedere come funziona in modo che poi condivide queste informazioni dal suo punto di vista con i dipendenti comunali con l'assessore per fargli vedere cosa non funziona no? Questa cosa eh si fa anche con con gli utenti non solo il ricercatore lo può fare in prima persona ma anche con gli utenti si chiama user shadowing cioè io faccio l'ombra dell'utente mi metto accanto a lui seguo la signora col passeggino con il telefonino gli faccio un video e prendo appunti per vedere eh cosa succede quando la signora prende un mezzo pubblico ok? Magari il mezzo pubblico non è accessibile per esempio no? Oppure non si ferma la fermata dell'autobus perché la fermata dell'autobus sta in curva è messa male e via dicendo cioè mappo l'accesso a un servizio e mappo anche i touch point fisici e digitali abbiamo detto prima cosa sono per identificare cosa? Le eventuali barriere no? E cercare di rimuoverle ecco perché in questa maniera io ingegnerizzo un servizio proprio vado a capire come l'utente lo riceve e lo disegno ok? In modo che se ci sono delle criticità delle ridondanze degli elementi che non funzionano dopo che l'ho disegnato con quei metodi che abbiamo visto prima tipo il bpmn faccio il workflow il disegnino il del flusso io posso andare a eliminare le criticità che vedo chiaramente disegnate su un foglio no? Per immaginare il disegno di questi servizi nel settore e-commerce nasce l'idea di usare delle dei meta utenti ok? Quindi degli utenti finti eh che però eh non sono proprio eh diciamo la la barbie di turno Ken ma sono degli utenti che più si avvicinano il più possibile a eh gli archetipi e quindi non degli stereotipi ma all'archetipo dell'utente quindi vado a identificare una serie di eh utenti che usano il mio servizio ad esempio di trasporto pubblico e vado a capire l'età per esempio dell'utente medio questo a destra è una scheda che ho tirato fuori legata a ehm il sistema dei trasporti della baia di eh di Boston quindi eh praticamente questa signora Alisa ha ventisei anni eh e eh conosce bene la città di Boston sotto vedete i suoi livelli di esperienza su per esempio l'uso dei device delle app quindi l'idea potrebbe essere ok tipo all'utente medio gli va bene che gli sviluppo un'app per telefonino dell'uso di intre di internet ok perché magari la connessione c'è certo siamo a Boston magari se uno va nel comune dell'alta lunigiana eh la connessione wifi non c'è e quindi c'è posso avere anche problemi di connettività la conoscenza dei trasporti pubblici la familiarità con la città con l'area metropolitana di riferimento e qui poi vado a dettagliare gli altri elementi del meta utente no della della vengono chiamate le user personas quindi eh che cosa si aspetta quali sono i suoi obiettivi cosa vorrebbe dal sistema di trasporti no eh quando lo usa eh quali sono le sue abitudini quindi anche per entrare in empatia con l'utente medio ok quindi mi serve a supportare il designer nello sviluppo delle soluzioni eh l'obiettivo è sempre averci il focus sull'erogazione del servizio ok quindi sull'outcome sul valore per l'utente non sull'output ricordiamocelo questo passaggio da output a outcome l'abbiamo detto all'inizio che cos'è fondamentale ci dobbiamo orientare sulla CX sulla customer experience su quello che l'utente si aspetta ok sul valore per l'utente non su le delibere che io produco il brainstorming è appunto lo conoscete benissimo eh un gruppo di persone si riuniscono discutono di una cosa in totale libertà ora eh molto spesso lo si fa quando siamo magari al bar a prendere uno spritz eh lo si fa molto meno in ufficio anche perché in ufficio tutti hanno paura di sbagliare e di dire eh delle cose magari gli altri ritengono stupide e quindi tutti stanno con il freno a mano tirato invece no nel brainstorming la prima regola è che non ci sono regole quindi tutti possono dire eh le eh quello che pensano su una sfida su un problema su come risolverlo e non è ammesso il non si può fare ok cioè prima tiriamo fuori con la regola del del diamante no una fase creativa e poi dopo nella fase invece di convergenza si fanno a mettere eh a terra le le attività però nel brainstorming non esiste la regola la risposta non si può fare accettiamo tutte le risposte massima apertura ok eh l'unica cosa è che poi dopo lo devo strutturare quindi ci devo avere un un diario una SWOT analysis un eh uno strumento per scrivermi tutto quello che viene fuori dal brainstorming perché il rischio è che se no rimane eh una chiacchierata con poca eh dove non non si riesce a quagliare elemento e qui concludo questa prima parte eh lasciando spazio alle domande elemento più interessante di tutti gli strumenti del toolkit è la service blueprint ci torneremo nel dettaglio la prossima volta vedendo la service blueprint prodotta e è utilizzabile da noi pubblica amministrazione italiana eh dal portale eh nonché manuale eh designers punto italia punto it che è una ficata ma la service blueprint che cos'è? È una mappa quindi una una rappresentazione dettagliata eh attraverso un disegno del viaggio dell'utente ecco perché finora abbiamo parlato di viaggio dell'utente del meta utente meta persona ok quindi il viaggio dell'utente che interagisce con l'amministrazione attraverso touch point quindi punti di incontro fisici quindi lo sportello utente del comune o virtuali telefonino eh sito del comune mail no? E che eh interagisce quindi noi andiamo a misurare sia il front office sia tutto eh diciamo il back office ok quindi i vari dipartimenti del mio comune che interagiscono tra loro nello sviluppare una pratica comunale no? Nel mettere a terra la richiesta per una cila eh e via dicendo quindi c'è tutto un back office che interagisce all'interno del nostro comune e io vado a misurare quello e do visibilità delle varie interazioni dentro a questa mappatura grafica ma do anche visibilità delle interazioni del cittadino ok in questa mappatura grafica quindi ehm la differenza rispetto alla mappa dell'utente è che la service blueprint già vuole immaginare i servizi futuri come saranno ok quindi io ehm per la prossima volta ci abbiamo tanti temi divertenti e interessanti eh da da trattare eh non vedo domande risposte domande in chat non sono pervenute domande e quindi io questi sono i miei contatti se qualcuno mi vuole ovviamente io non faccio consulenza lo dico eh anticipo la domanda allora scusa se ti interrompo Leonardo ehm diciamo per procedura va sempre passato per la posta di progetto quindi qualsiasi eh richiesta dubbio informazione potete sempre scrivere alla la posta di progetto che sapete benissimo fa stambito b eh chiocciola formets punto it e qualsiasi richiesta rivolta appunto al dottor Bertini passate da lì e noi gliela rigiriamo comunque il prossimo appuntamento è eh il ventotto di maggio avrete poi tutte le informazioni come al solito per mezzo mail e vi arriverà l'invito e la faremo sempre attraverso la piattaforma zoom e il materiale e la registrazione eh saranno disponibili eh saranno disponibili nello spazio territorio in rete tra qualche giorno e mh e comunque sarete messi a conoscenza sempre nel solito modo di comunicazione e mh niente se non ci sono domande e non mi sembra che mh eh siano pervenute nella chat io ringrazio innanzitutto il dottor Bertini per ehm la disponibilità e la chiarezza con cui ha ha svolto questo approfondimento e vi diamo appuntamento eh chiaramente per la prossima volta che vi ripeto essere il ventotto maggio prego no io volevo volevo anche io ringraziare di nuovo tutti e la prossima volta eh rifaremo un recap molto rapido di quello che ci siamo detti oggi ma andremo avanti come abbiamo invito tutti eh se eh c'è la possibilità a dare un feedback o via email al gruppo di fast insomma del progetto o se c'è un form online non lo so eh però in modo che io posso anche eh appunto eh tarare tenderemo sonderemo assolutamente il terreno magari se c'è una richiesta di un approfondimento specifico magari prima del tuo intervento eh se c'è magari un un argomento da specificare o da tarare in maniera più approfondita e ecco vedo in chat i ringraziamenti grazie molto chiaro eh il tuo intervento quindi ringrazio anche voi che avete partecipato vi invito appunto a scrivere un feedback nella nostra chat e a darci anche delle idee dei suggerimenti per eventuali approfondimenti futuri che senz'altro eh saremo belli eti di approfondire ringrazio ancora tutti per la partecipazione ringrazio il dottor Bertini e vi do appuntamento a maggio comunque per il webinar noi chiaramente work in progress con il gruppo di lavoro grazie a tutti troverete la registrazione il materiale, il territorio e il rete.